Veniamo da Rimini e vogliamo far vedere che siccome noi abbiamo una grande scuola di ballo i nostri atleti come le facciamo a tenere in allenamento perché si chiamano sirene danzanti, c'è anche qualche sardone in mezzo sono sirene danzanti e appunto vi vogliamo far vedere come stanno in linea i nostri ragazzi prima però vi vogliamo far vedere la nostra disciplina così vedete come saltellano e come vanno e poi dopo vi facciamo vedere come fanno a stare in allenamento vorrei qui in pista gli atleti delle sirene danzanti l'applauso eccoli qua guardate che belli tutti i florali, bellissimi che sirenetti, sirenetti direttamente da Rimini bene bene ragazzi facciamo un cerchio, un bellissimo cerchio e si parte con la mazurka romagnola ecco guardate qui le gambotte energiche come sono belle, fresche e romagnola, ruspanti vai con la mazurka mi raccomando le mani e su tutte le mani al cielo via volume se no la romagna non si sente dove si beve si mangia attenzione che si va con la marcata marcata giù, su occhio ecco il giù e su è sempre fatica giù, su giù, su giù, su giù, su e si riporte vedete come sono energici è perché fanno degli allenamenti fantastici durante l'inverno e si va a sinistra e si va a sinistra doppio cavallo fuoco e questo è il cavallo romagnolo guardate come saltellano facciamo un applauso a questi ragazzacci a questi sireneti dopo vedete anche i sarduni e si va con l'ultima parte saltata fuoco e questa è la trivella romagnola la trivella guarda che roba incredibile fuoco ecca via 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 eeeh applauso grazie grazie allora i nostri attività adesso le vorrei fermi qui prego io prego mi servirebbe un po' un microfono senza fini posso usare tutto il mio tutto il mio grazie ecco adesso visto no no fermi fermi qui ragazzi state fermi allora avete visto come sono energici noi avete questi ragazzi sono così energici perché durante l'inverno fanno un allenamento speciale